Siamo con Tommaso Peluso al termine di Roma-Visnova, Rari Nantes-Nuoto-Salerno. Tommaso, partita mai in discussione oppure nel secondo quarto, quando sono tornati sotto, avete pensato che potessero pareggiare? Ma allora, sicuramente siamo partiti subito forte e questo era quello che c'eravamo detti. Poi nel secondo sicuramente abbiamo forse un po' abbassato il ritmo, ci può stare anche se non dovrebbe starci, però poi abbiamo ricominciato a macinare il gioco e siamo riusciti a tornare a fare quello che c'eravamo detti in precedenza. Sta andando benissimo quest'anno, soltanto una piccola sbavatura. Come si tiene alta la concentrazione in un torneo che comunque ha insidie in tutte le partite? Sicuramente il merito è anche del nostro allenatore, prima di tutto, che ci motiva e ci spinge a fare sempre di più ogni giorno in allenamento, ma anche secondo me del gruppo e dell'intesa che abbiamo fra noi, che non è scontata, e ci motiviamo anche a vicenda, potremmo dire. Detto questo, niente, sì, questo. E ultima, l'allenatore ha un chiodo fisso, qual è la cosa che vi chiede sempre di fare quando giocate? Giocare al massimo. Giochiamo sempre per fare un gol in più e subirne un in meno, potremmo dire. E soprattutto di entrare sempre, possiamo dire, forti in qualsiasi cosa facciamo, anche se facciamo a volte una scelta sbagliata, farla forte. Sempre in ottico, ovviamente, possiamo dire, di macinare un gioco sempre più vicino a quello che vuole lui. Grazie Capitano. Grazie, grazie a voi.